Finalmente Preturo avrà il suo campo di calcio, questo grazie all'impegno dell'amministrazione comunale che investendo risorse proprie insieme ad una parte di fondi complementari al PNRR è riuscita a mettere insieme il denaro necessario alla realizzazione e ristrutturazione del nuovo campo in erba sintetica e di relativo spogliatoio a servizio delle società Atletico Ameternum e SS Preturo. Un giorno molto importante per il nostro comprensorio, finalmente diamo il via a un'opera attesa da tanti anni, direi dal primo possisma per la nostra comunità, realizzeremo con questo primo lotto il manto di erba sintetica per il nostro campo a cui poi seguiranno ulteriori due lotti per ulteriori 100.000 euro finanziati integralmente con risorse proprie del comune dell'Aquila che guardano l'efficientamento energetico e la ristrutturazione degli spogliatoi e la sistemazione dell'area esterna. Un impegno preso con il sindaco Biondi durante questa campagna elettorale a cui diamo seguito con i fatti. Cosa rappresenta per la comunità di Preturo avere di nuovo un campo su cui giocare? Ma è una risposta che ha dei risvolti anche di natura sociale, qui abbiamo due società sportive, la prima l'SS Preturo, una società storica che ha una storia di più di 40 anni di iscrizioni consecutive tra mille difficoltà che quest'anno ha raggiunto la prima categoria, un traguardo storico. Abbiamo l'Atletico Amiternum che da 20 anni prosegue la sua attività rivolta anche ai giovani e questo campo finalmente che verrà realizzato in sintetico consentirà alle due società di collaborare, collaborare e dare una risposta importante anche al settore giovanile che chiaramente con un campo e un impianto funzionante e moderno farà crescere anche il numero degli iscritti. Un momento molto bello per noi, in particolare abbiamo fatto anni anche di battaglie, diciamo così, perché il campo è in una situazione di degrado, quindi è veramente una bella notizia, non vediamo l'ora di tornarci, per quello che ci riguarda sia quella prima squadra sia con i ragazzini nel settore giovanile, quindi sarà sicuramente un grande investimento ma sarà anche molto utilizzato, staremo sempre qui, lo riempiremo. Ecco, l'altra squadra da lei rappresentata giocherà su questo campo, si allinerà, cosa rappresenta per i suoi ragazzi poter tornare a giocare su un campo vero? Assolutamente, mi accodo al presidente Vittorini, è una bellissima notizia, è vero che il campo è stato per anni, diciamo, abbandonato, pochissima manutenzione, questa occasione che l'amministrazione Biondi ci mette su un piatto d'argento, è una grande occasione appunto che noi cogliamo al volo, non vediamo l'ora di poter utilizzare l'impianto.